La vicenda del parcheggio di piazza Leonardo finalmente volge al termine. Ricordate dal 2013, data nella quale il nostro sindaco diede il permesso a costruire, ci troviamo a lottare contro questa scelta assolutamente improvvida. Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai cittadini, il parcheggio non si può fare, la cooperativa deve lasciare la piazza e deve restituire ai cittadini che vi abitano, ai negozi che naturalmente devono continuare le loro attività, la piazza così come era nelle condizioni in cui era. Abbiamo fatto una richiesta al sindaco affinché ci sia un controllo immediato e totale rispetto alle condizioni in cui si lascerà la piazza. C'è una scala che non c'era prima e che deve essere naturalmente tolta e bisogna controllare la qualità dei sottoservizi. La ditta durante il periodo dei lavori agì anche sulle fogne, quindi prima di restituire la piazza si controlli la bontà delle azioni che sono state svolte affinché non ci sia nessuna sorpresa negli anni. Speriamo di darvi buone notizie, di riavere la piazza libera e pulita rispetto a com'è adesso.